Eccolo, eccolo, c'è un fusone. Caccia buona, oggi vi porta in Umbria. Adesso il daino lo porteremo non lontano da qui. Qui a Montone, nel borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, nella cucina di un grande chef, Giancarlo Polito, del ristorante La Locanda del Capitano. Adesso farei una ricetta super super sprint veloce, giusto? Il piatto d'entrata è una semplicissima battuta del tuo daino. Adesso la dressiamo semplicemente con un po' di sale Maldon. Sono fiocchi di sale. Che non è sale grosso, è una cosa diversa, giusto? No, sì. Comunque acquistabile tranquillamente in qualsiasi supermercato. Sì, un pochettino di pepe. Un po' di pepe. E lui, non deve mai mancare. Olio. Grande olio ombro. Io quello che dico, usiamo il prodotto italiano. Va bene. Anche perché ce lo invidiano mezzo mondo, quindi perché non usarlo? Certo. Andiamo velocemente a fare la nostra entrata. Questa tartare col coppapasta, che dà un po' di forma. La disponiamo al centro del piatto. Taglieremo un pochettino di tartufo, fette abbastanza larghe e spesse, che andranno a dressare il nostro piatto. Dopo, questo è un tuorlo d'uovo fritto al momento. E adesso un po' di magia, un po' di struttura, un po' di fumo, con il nostro aggeggino, che è un semplicissimo affumicatore. È come se fosse una pipa, praticamente, con dei truccioli lì. Ecco. Dunque, tu lo porti in tavola così? Il cameriere, ovviamente, lo porto in tavola così. Io lo porto in tavola così e proprio vicino ai commensali viene fatto a vedere questo effetto di affumicatura. Che meraviglia. E al momento si versa un po' d'olio. E questo è il mio semplice, ma credo appetitoso piatto. Decisamente, sicuramente. È stata davvero una bellissima esperienza qui a Montone. Speriamo di rivederci presto. Sicuramente ci rivediamo presto con voi per la prossima puntata di Caccia Buona.